buongiorno appassionati di homestyle sono vito sportelli general manager di class e partner di residenza prampolini 1 a novate milanese in questo breve video cercherò di illustrarvi una delle abitazioni di residenza prampolini 1 l'attico d'oppressi prima però consentitemi di introdurvi anche il progetto nel suo complesso residenza prampolini 1 un'opera realizzata da parolo real estate sorgerà a novate milanese tre eleganti mini residenze pevero stintino e calaluna alle porte di milano immerse nel verde di due parchi comodamente collegati alla stazione 3 nord tramite un ponte pedonale vivere in residenza prampolini 1 significa scegliere un contesto esclusivo di massima vivibilità un'abitazione di design all'avanguardia in classe energetica a4 e completamente personalizzabile locale trilocale quattro locali o antico duplex spazi interni confortevoli e ampi spazi esterni godibili a scelta tra terrazza ottenanza giorni indipendentemente dalle proprie esigenze abitative un contesto che permette di migliorare il proprio stile di vita oggi vi vogliamo accompagnare in uno dei 10 attici di residenza prampolini 1 a partire da 180 metri quadri su due livelli entrambi con vista parco i circa 95 metri quadri dal piano ci consentono di avere un unico spazio living dove poter pranzare studiare lavorare e vivere la nostra quotidianità nella massima libertà la loggia al piano giorno e la continuazione del soggiorno ci consente di vivere all'aperto tutte le stagioni sempre al piano giorno abbiamo la possibilità di avere uno spazio dedicato allo studio al lavoro oppure scegliere di avere una cucina separata o infine disporre di una camera da letto in più naturalmente non poteva mancare un comodo guardaroba ripostiglio un disimpegno con relativo bagno sempre finestrato la scalinata leggera e moderna ci accompagna al secondo livello quello della zona notte qui abbiamo a disposizione tre ampie camere due bagni e un'ulteriore ampia terrazza al sole dall'alba al tramonto possiamo trasformare la terrazza del secondo livello in una suggestiva relax zone vista parco adibendola per esempio con idromassaggio jacuzzi e godere dell'aria aperta per fare sport prendere sole o indicarci alla passione del verde le travi bianche a vista presenti su tutto il piano forniscono un ulteriore tocco di eleganza un ambiente moderno dove gli spazi rimangono sempre ben illuminati grazie ai seramenti minimali in alluminio e all'utilizzo di materiali di allestimento moderni e funzionali le abitazioni di residenza prampolini 1 sono tutte dotate di allestimenti esclusivi quali per esempio ventilazione meccanica controllata alpac domotica e molto altro sono disponibili diversi tagli e tipologie scoprile sul nostro sito classon.it vivere residenza prampolini 1 significa vivere bene dove vuoi tu a modo tuo casa